Il piano del governo per il dimensionamento scolastico è chiaro, tagliare 700 scuole entro due anni. Il 70% dei tagli e delle fusioni sarà concentrato al sud e la campagna risulta tra le regioni più colpite. Un vero e proprio disastro per le aree interne dell'Irpinia. A Collina Liguorini incontro tra i sindaci della provincia di Avellino e dirigenti scolastici e l'assessora regionale Lucia Fortini, un confronto promosso dai consiglieri regionali Alaya e Petracca. Le nuove norme relative al dimensionamento scolastico determinano un eccessivo danno e una parte dell'Irpinia è destinata a pagare in maniera penalizzante il depauperamento di servizi e presidi culturali e sociali che le istituzioni scolastiche autonome rappresentano sul territorio. E' questa la preoccupazione che i sindaci hanno rassegnato all'assessore regionale, sindaci che ora si dicono pronti a scendere in campo. Una battaglia che però forse i sindaci mettono in atto un po' in ritardo. E' vero, siamo molto in ritardo, abbiamo sottovalutato questo aspetto, cerchiamo di recuperare però, siamo ancora in tempo. Siamo stati individuati come aree SNAI, quindi aree ad elevata difficoltà per il grande spopolamento in atto e quindi è necessario che ci sia tutela da parte del Ministero innanzitutto e anche da parte della Regione Campania, anche se devo dire che l'assessore Fortini è molto attento alle nostre esigenze, alle nostre richieste e quindi credo che la battaglia vada condotta fino in fondo e che si rispettino le zone interne.